80 milioni di euro per il varo del piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne del Mezzogiorno e risorse per 21 milioni da destinare al piano straordinario Asilinido, indirizzato ai comuni che fanno parte delle sette città metropolitane meridionali. Questi rendono tolanci i risultati di maggiore rilievo per i comuni scaturiti dalla riunione della cabina di regia dei fondi sviluppo e coesione che si è svolta a Palazzo Chigi, alla presenza della Ministra per il Sud, Barbara Lezzi. La somma stanziata per il piano sicurezza delle strade dei piccoli comuni delle aree interne, 80 milioni, verrà ripartita in quote uguali fra le otto regioni interessate, sarà disponibile per l'intero anno in corso e finanzierà progetti inviati entro il 31 dicembre 2019 fino ad esaurimento delle risorse. Il piano straordinario Asilinido, invece, avrà una dotazione finanziaria di 21 milioni di euro che verrà ripartita in quote uguali fra le sette città metropolitane del Mezzogiorno. Nel suo intervento ai lavori della cabina, il sindaco di Reggio Calabria, Falcomatà, presente per lanci in veste di responsabile politico per le politiche di coesione territoriale, ha ribadito l'importanza del lavoro di concertazione in cabina di regia. Il fondo, insieme agli altri fondi strutturali UE, risponde effettivamente alle primarie esigenze di investimento nelle aree svantaggiate. Tuttavia, per rendere tale lavoro più proficuo, ha sottolineato Falcomatà, è importante che ci sia coinvolgimento di Anci anche nella fase di istruttoria tecnica, in modo da poter qualificare maggiormente l'apporto sia in termini di identificazione del fabbisogno di intervento, sia in termini di proposte, sia sul fronte di una gestione e attuazione più efficace e veloce. Nel merito delle proposte portate all'attenzione, il delegato Anci ha apprezzato poi le proposte del governo, sottolineando l'importanza di un intervento di potenziamento dell'offerta. Su entrambi i fronti, Falcomatà ha poi ricordato l'importanza sia degli stanziamenti per i piccoli comuni, previsti nella legge di stabilità 2019, sia del programma PAC, che da qualche anno opera sui servizi di cura all'infanzia e agli anziani, e che andrà in scadenza a breve. Per rendere più sinergiche le varie azioni in campo, ha concluso poi il sindaco di Reggio Calabria, serve non solo un presidio più condiviso a livello attuativo, ma anche un maggiore protagonismo di comuni e città metropolitane, che potrebbero certamente contribuire a indirizzare più efficacemente le scelte di investimento. Su questi ultimi punti, Anci presenterà nelle prossime settimane al ministro Lezzi alcune proposte operative.